si vede l'orsaro, questa qui è l'alpe di Succiso questa è l'alpe di Succiso c'è l'orsaro signori e signori abbiamo iniziato la nostra sessione di Parma dove teneremo tra 15 minuti vi preghiamo di allacciare il cielo di sicurezza ricordiamo di fronte a voi e di spegnere gli apparecchi elettronici devo spegnere la telecamera ho filmato il lago del Cereto dove andiamo? l'alpe di Succiso l'orsaro, dove l'orsaro? devo spegnere qua è il Mar Magna Mar Magna Raiola l'orsaro l'orsaro non temato si l'ora Grazie a tutti.